il fan music village è una settimana spettacolare in cui un sacco di giovani bambini persone che amano la musica si trovano per farne tantissimo insieme ci si diverte e si conoscono nuove persone si fanno un sacco di robe tutte pazzesche davvero fan music village è divertimento allegria musica si diverte si gioca insieme si imparano tanti strumenti nuovi musica di tutti i tipi chitarra pianofordi e clarinetti flauti trombe tanta 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 musica e si conoscono nuovi strumenti e si diverte e si gioca con la palla anche se volete una cosa pazzesca spensiera testa in una parola esperienza indimenticabile si sono tutti insieme si canta si mangia soprattutto il fan music village è a calmino se volete passare una settimana a fare della bella musica e a divertirvi insieme li aspettiamo io seguiamo il fan music village di Milano e Milano e Milano e Milano e Milano e Milano e Milano musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.